buongiorno ragazzi e siamo alla vigilia di natale siamo in zona aeroporto marina dell'aeroporto di genova sestri abito qua vicino e come mia consuetudine ogni anno la vigilia o anche il giorno dopo capodanno tendo a venire un po qui di solito vengo a correre qua no però oggi sono un po più pigro sono già andato ieri in palestra quindi ho detto vengo un attimo a parlare con voi e dopo che ho fatto delle attente riflessioni questa notte dormo poco ma con piacere bastano anche 5 6 ore di sonno ben fatte e poi il giorno dopo sei di nuovo bello carico oggi voglio mandare un nuovo messaggio per il 2020 e soprattutto darti una nuova serie di video che inizierò poi a costruire in questi giorni quindi inizierò qualche video questa mattina poi terminerò entro fine anno con una nuova rivoluzione che per te sarà probabilmente un cambiamento di punto di vista di come si può ottenere del business con la parola immobiliare ok quindi questo video dedicato per te se in questo momento non sei proprio soddisfatto del tuo 2019 forse volevi fare di più o forse non hai fatto proprio niente non sei riuscito a sbloccarti e sei sempre stato lì a pensare di volere ma poi alla fine non hai mai fatto neanche quel passo hai fatto un tentativo ma poi sei subito ritornato al punto di partenza bene se fosse questa la principale sensazione e realtà del 2019 sono venuto qua per te per dirti che bisogna cambiare forse il punto di vista un punto di vista diverso perché è inutile andare a continuare a sbattere la testa contro il muro ogni anno facendo e prendendo le stesse decisioni dell'anno precedente in pratica poi il risultato sarà sempre identico quindi sei nelle sabbie mobili fai un passo avanti e poi sprofondi sempre di più quindi voglio che ho creato una nuova serie di video che andrà poi a rivoluzionare un po anche la scaletta dell'anno 2020 da parte mia per gli insegnamenti sapete benissimo che vi insegno a investire gli immobili con informazioni e con un metodo ma non sempre tutte le persone hanno dei requisiti particolari che gli possano permettere di giocarsi le proprie chance nel settore immobiliare un po perché sono cresciuti magari con una mentalità un po più rigida un po più statica un po più da dipendente o perché hanno paura hanno grandi informazioni studiano tanto ma poi non riescono mai a prendere il via hanno il cruccio del capitale hanno la paura del rifiuto insomma tutto questo crea staticità routine abitudini e si tende a fare da spettatore in questa bellissima opportunità che è il settore immobiliare la parola immobiliare è veramente fantastica ti permette di guadagnare dal semplice artigiano impresa al vendere delle porte a fare l'agente immobiliare a fare l'investitore immobiliare a fare il coach immobiliare a fare il formatore immobiliare a fare il consulente immobiliare veramente a arredare un immobile quindi guadagnano tutte queste figure solo con la parola immobiliare quindi io mi chiedo non ci sarà una nicchia della parola immobiliare che possano fare al caso tuo e quindi ho inserito di proposito veramente è stato per me anche una cosa abbastanza battagliata perché vado sicuramente a pestarmi un po i piedi da solo e a svegliare ad aprire un po quel vaso di Pandora che mi ha permesso fino ad oggi di fatturare tantissimo non solo con l'agenzia immobiliare non solo con gli investimenti immobiliari non solo con le locazioni immobiliari non solo con la formazione ma anche con la consulenza perché la formazione è una cosa la consulenza è un altro tipo di discorso io sai che sono sempre stato alla ricerca e alla verifica di metodi che altre persone tendono a non utilizzare e questo mi ha sempre permesso di differenziarmi immediatamente dalla concorrenza che poi magari mi ha accoppiato se mi segui da dieci anni sai che i corsi online li facevo solo io dieci anni fa non esisteva nessuno che faceva corsi online sì c'era qualcuno che aveva un videocorso che non mi ricordo neanche il nome che non esiste più che praticamente era un'enciclopedia delle leggi e degli articoli della prima della seconda casa io ho creato in Italia un nuovo modo di studiare dedicato a quelle persone che non ne capivano niente in quel momento ecco oggi 24 dicembre 2019 sta per nascere un nuovo e direi sorprendente metodo rivoluzionario che mi ha permesso fino ad oggi di poter prosperare in maniera serena costante duratura dove ho messo passione entusiasmo e te la voglio svelare ti voglio portare a questo nuovo tentativo per cercare di guadagnare anche te con la parola immobiliare come ora andiamo al dunque poi ci sarà una serie di video verranno consegnati soltanto a coloro che sono interessati ok quindi non voglio stressarti con dieci ore di video consecutivi verranno spezzettati mano mano che andiamo avanti con la consegna di video mi scrivi mi dice guarda mandami il successivo quindi arriveremo poi alla fase conclusiva solo con quelle persone che ritengano opportuno ascoltare trovare questa variante che io non ho mai insegnato ma che faccio praticamente tutti i giorni con la mia attività di consulenza immobiliare che è collegata alla formazione molti di voi non sanno quando faccio formazione e non sanno quando invece è consulenza questo aspetto qua ti potrà aiutare sicuramente se in questo momento con gli investimenti immobiliari non riesci ad avere i fatturati che ti meriti chi investe in immobili o si arricchisce oppure è meglio che lasci perdere perché in un anno anche guadagnare 30.000 euro per un'operazione significa guadagnare 2.500 euro al mese lord per tutto il lavoro che ti stai e il mazzo che ti devi fare sinceramente non ci si sputa sopra 2.500 euro però comunque sicuramente non potrai dire di essere un immobiliarista quindi dimentichiamoci per un attimo l'aspirante investitore che c'è in te e cerchiamo di seguire il filologico attenzione mi devi seguire con attenzione perché è un gioco sottile e le cose che ti dirò in questo video potrebbero sembrare delle bestemmie per come sei abituato te a pagare un servizio per un determinato professionista possiamo immaginare magari ad esempio l'agente immobiliare tu lo paghi se ti trova comunque la casa non è che lo paghi prima possiamo pensare il consulente di aste che lo paghi quando ti trova l'immobile possiamo pensare a tantissimi servizi che si pagano tra virgolette alla consegna allora quello che ti voglio spiegare io in questa serie di video è come riuscire a guadagnare con la parola immobiliare ok fornendo un servizio in determinate nicchie del settore immobiliare che tu magari in questo momento come investitore non riesci a fare non perché non sei capace ma perché non riesci proprio a dare lo start per una questione psicologica quindi sei bloccato mentre magari per altre persone siccome sei preparato e non hai quell'aspetto psicologico che è fatto per te avresti dei risultati probabilmente diversi anche come fatturato e poi dopo vedendo che sei capace ad aiutare le persone sicuramente ti lancerai anche con te stesso quindi cosa significa? io ti spiegherò in questa serie di video come è possibile guadagnare ok? facendosi pagare profumatamente prima e dopo quando il servizio è concluso quindi ti parlerò di quali sono prima di tutto le credenze in Italia sui servizi di formazione di consulenza immobiliare quindi ti dirò cosa pensa la gente cosa sono le loro aspettative e in Italia che cosa si usa per poter pagare un professionista e una volta che avrai seguito questo video capirai come ribaltarlo totalmente e quindi uscire da un'abitudine di comfort che molti clienti quando poi lo sentiranno diranno tu sei pazzo e invece poi ti dimostrerò con fatti concreti che in questo momento noi stiamo lavorando benissimo con persone che ci hanno già pagato un determinato servizio ok? quindi se vuoi seguire con attenzione questa serie di video che ti cambierà completamente il punto di vista ti darà la possibilità di dire beh caspita allora posso anche studiare e monetizzare quello che sto studiando mi scrivi un ok qui sotto per ricevere il video 2 e iniziamo una una specie di scalata verso un nuovo modo di pensare un nuovo modo di agire un nuovo modo di ragionare che in questo momento ti sembra quasi impossibile ti assicuro che con un po di studio e con un po di cambio di mentalità che ti farò fare in questi video avrai la possibilità di giocarti le tue chance anche se in questo momento con gli investimenti immobiliari guardandoti dallo specchio non hai concluso magari granché o proprio non hai mosso un dito quindi quello che ti porta che ti porterò a fare in questa serie di video è quella di vedere un nuovo punto di vista e di poter guadagnare con la parola immobiliare senza avere il cruccio di fare te l'operazione senza metterci un centesimo facendoti pagare ancora prima di iniziare e poi essere ringraziato per aver risolto un problema di investimento al tuo futuro cliente investitore chiamalo come vuoi quindi se vuoi il video 2 lo consegno solo a chi lo vuole quindi è gratuito però se non ti interessa non seguirlo perché si vede che tanto probabilmente poi non lo ascolteresti mai quindi se vuoi il video 2 ce ne saranno poi altri ce ne saranno poi altri mi scrivi ok e te lo mando appena è pronto il video 2 è già pronto te lo puoi anche chiedere adesso io lo farò farò questa serie di video in una settimana perché è molto avanzata questo tipo di nuova mentalità che ti devo mettere insomma praticamente nella testolina e vediamo insomma se ci riusciamo a raggiungere l'obiettivo insieme io ce l'ho fatto ormai lo faccio da anni e tu stesso magari sei un fruitore della mia consulenza e senza essertene accorto magari dai scrivi video 2 te lo mando ciao